Io lo so quanto soffro per trovare il posto, perché ogni sera è il calvario, torni e giri, giri, dieci minuti, venti minuti, a volte fino a quaranta minuti, fino a che finalmente avviene il miracolo, perché ogni volta è un miracolo e tu lo consideri un miracolo dimenticandoti che sono cinquanta cazzo di minuti che sei lì a cercare, oltre che un miracolo. E io vedo, all'antio vetrato di un condominio, una persona che dal movimento della mano su una tasca, direi che all'interno della tasca stessa ha un mazzo di chiavi di una macchina parcheggiata fuori, io lo punto e non lo mollo più. Intanto attorno a me si è scatenato l'inferno, frecce, doppie frecce, retro marce di chilometri, versioni a un gente che si sbraccia, ma mia, è mio. Stiamo calmi, sono qui dalle sette e un quarto, è mio. Solo che a me non capita mai quello bello dinamico che arriva, telecomando, apre la portiera, c'è del motore, retro marce, mi lascia il posto. No! A me capita sempre quello che arriva con calma. Tanto c'è tempo. Sembra lo faccia apposta. Capito benissimo che io punto al suo posto. Lui se la prende con. Si guarda intorno. Osserva il suo quartiere con occhi nuovi. Poi fa le finte. Prima vai uno, poi vai l'altro. Quante cazzo ne hai? Mi manca. Devi scegliere quale usi questa sera. Poi finalmente si decide. No, a te non ti mangio, eh. E la mente sale. Si siede, comincia a spostare avanti e indietro il sedile. La usi solo tu. Cosa ti si sono allungati i piedi? Poi c'ha caldo, allora tira giù il finestrino. Poi si accorge che è gennaio, allora. Tanto non ha ancora acceso il motore. Poi pensa, forse due dita da destra sarebbero l'ideale come ariazione. Solo che non ha i cristalli elettrici. Questo pezzette per cui si straia per aprire, si protette. Tu lo vedi, sparisce giù e torna più. Cazzo è morto. Non poteva morire fra dieci minuti. Cazzo, con tutto quello che ci mette l'ambulanza, con questo posto non lo prendo. Mi sporgo per guardare. Non è morto. E che nello sdraiamento ha buttato inavvertitamente l'occhio sotto i sedili. Non l'avesse mai fatto. Documenti che cercava da anni. Costumi da bagno. Impuffi di sua nipote. Allora fa una bella pulizia col sacchettino. Si rialza con tutto il sangue alla testa. Non si ricorda neanche più bene. Sono su una macchina o una motonave. Allora per conferma apri il cruscotto e tira fuori il libretto dell'istruzione. A questo punto io lo sto perfonando con lo sguardo. Lui evidentemente percepisce un dolore ficcante qui dietro alla nuca perché finalmente si gira verso di me. Stupefatto di trovarmi lì. Pensava di essere nel Sahara. Mi guarda, capisce e mi fa... Lui ci vive lì dentro. Era andato a parcheggiare l'appartamento.